Endless Love, anticipazioni dal 13 al 15 marzo dove vedremo Kemal andare via per lavoro e Nihann tornare a pensare a lui nonostante sia sposata con Emir. Kemal e Nihann si vedono al centro commerciale per guardare la mostra dell'accademia. I due sono sempre più in sintonia, Ozan li segue e li spia ma decide di non dire nulla di Emir che già sospetta che Nihann frequenti qualcuno a sua insaputa. Emir, arrabbiato perché sia Nihann che suo fratello rifiutano le sue chiamate, manda a monte un'importante riunione di lavoro proprio con il padre dei due, Onder. Emir, infatti, si rifiuta di salvare l'azienda dei Sezin e su tutte le furie si rintana nel suo ufficio. Viene raggiunto da suo padre, Galip, che cerca di tranquillizzarlo. Il ragazzo è completamente ossessionato da Nihann, la vuole e la desidera, vuole che lei diventi sua moglie e il fatto che lei continui a rifiutarlo lo fa andare su tutte le furie, tanto da confessare al suo stesso padre di essere disposto anche ad uccidere sia Nihann che chiunque le si avvicini. Suo padre Galip non cerca di farlo demordere nei suoi deliri ossessivi, anzi, gli promette che farà tutto il possibile per fargli ottenere ciò che vuole. Lo invita a prendersi dei giorni di riposo e ad andare a Londra. La sera a casa, la famiglia Sezin cerca di capire il perché Emir abbia mandato l'affare a monte. Soprattutto Onder e sua moglie sono particolarmente preoccupati per la piega che ha preso la situazione. Nihann cerca di convincerli anche a lasciar perdere qualsiasi tipo di affare con Emir, vista la cattiveria e la malafede del ragazzo. È proprio Emir che chiama Ozan nello stesso momento per incitarlo, ancora una volta, ad informarlo su tutto quello che fa la sorella. Ozan cerca di imbonirselo ma non confessa ciò che sa veramente su sua sorella e Kemal. A casa Sezin arriva anche Galip che senza perdere troppo tempo convoca Oder per parlare di affari. Anche Vildan partecipa alla conversazione. Di fatti è un incontro d'affari ma che riguarda anche la loro famiglia. Galip spiega senza mezzi termini che se Oder vuole salvare la sua azienda dovrà accettare che Emir sposi Nihann, altrimenti loro gli negheranno l'aiuto finanziario di cui hanno bisogno. Oder, uomo orgoglioso e idealista, reagisce malissimo alla richiesta. Non accetterà mai di costringere sua figlia a sposare qualcuno solo per questione d'affari. Vildan, invece, preoccupatissima di perdere la giatezza economica, è più propensa a cercare di convincere la figlia da consentire al matrimonio. Ne sfocia un'aspra discussione le cui urla richiamano l'attenzione di Nihann e Ozan, che in breve capiscono la richiesta di Galip. Nihann rimane sconvolta e Ozan, invece, si sente male e viene colpito da una grave crisi epilettica. Il giorno dopo, Nihann e suo fratello si prendono del tempo per stare insieme e lei gli confessa di essere molto presa da Kemal e che vorrebbe che i due si conoscessero. Kemal e Nihann cenano insieme su una barca ormeggiata. Si confrontano sulle loro differenze sociali. Se Kemal teme che il loro status sia un ostacolo alla loro frequentazione, Nihann è invece più positiva e non crede che le loro origini possano ostacolare il loro rapporto. Lui è rincuorato dalle sue parole e i due passeggiano, spensierati, parlando delle loro famiglie e dei loro sogni. Si trovano veramente bene e sono rapiti l'uno dall'altra. Inevitabilmente, la loro vicinanza si concretizza in un dolce e appassionato bacio. Kemal si trova in un internet point con Salih. Controllando le sue mail, finalmente trova la risposta ad una domanda di lavoro inviata mesi prima. È felicissimo nello scoprire che è stato preso alla miniera di carbone di Zunguldalk. La notizia è bellissima, ma Kemal dovrà trasferirsi. La gioia lascia lo spazio ad un po' di amarezza per il pensiero di dover lasciare la famiglia e Nihann, di cui pensa, di essersi innamorato. Nihann è decisa a far conoscere Kemal e Ozan, infatti ha prenotato un tavolo in un ristorante per tutti e tre. Kemal, anche se un po' titubante per via della notizia del lavoro, decide comunque di non deludere Nihann e a consentire all'incontro. Ozan e Nihann sono già sul luogo dell'incontro. Senza preavviso, però, arriva Emir a sconvolgere i piani della ragazza. Nihann si vede costretta a dover annullare la prenotazione per Kemal, che, arrivato al ristorante, si vede negato l'accesso. Non potendo entrare, Kemal decide di aspettare qualche minuto fuori dal ristorante ed è qui che vede Nihann uscire, subito, seguita da un Emir furioso per la poca considerazione mostratagli. Kemal assiste ad una vera e propria scenata di gelosia di Emir nei confronti di Nihann e non può fare altro che pensare che i due stiano insieme. Lei riesce a liberarsi di Emir e va via in macchina cercando disperatamente di chiamare al telefono Kemal, che però, offeso, non le risponde. Nihann decide quindi di raggiungere Kemal al molo sperando di trovarlo lì, intento a lavorare. Lo trova mentre lavora ad una barca e cerca di scusarsi con lui per quanto successo. Kemal si sente tradito sia perché lei gli ha negato la verità sia perché pensa che Emir sia il suo fidanzato. Nihann cerca di spiegargli che Emir non è affatto il suo fidanzato e che lei in realtà è innamorata di lui. Kemal non ha neanche il tempo di realizzare quanto detto da Nihann che arriva a Vildan a interrompere tutto. La donna, alla ricerca della figlia, è molto dura con entrambi. Nihann le spiega subito che Kemal è il ragazzo della quale è innamorata ma lei denigra sia lui che la situazione. Lei è una ragazza di buona famiglia, non è concepibile che frequenti un ragazzo di un ceto sociale più basso. Le paure di Kemal si concretizzano in un attimo e le parole di conforto di Nihann non servono quasi a nulla. Lui, per evitare di soffrire ancora di più, riesce solo a dirle che partirà per Zonguldalk, per lavoro, e rimane spiazzato quando lei, senza pensarci, gli risponde che andrà con lui. La loro conversazione continua la sera stessa. Kemal non pensa che Nihann riuscirà ad abituarsi ad una vita umile e lontana da Istanbul, ma lei, imperterrita, è convinta che il loro amore supererà questo ed altre sfide. Lei andrà con lui e vivranno insieme. Si godono i momenti insieme e passano la loro prima notte di passione. Dopo un po' decidono di tatuarsi il segno dell'infinito. Contemporaneamente, Emir e Ozan trascorrono la serata insieme. Con loro ci sono anche due ragazze. Mentre Ozan si apparta con una di loro, Emir parla con l'altra intimandole di portare a termine il loro piano senza mandare tutto a rotoli. La serata di Kemal e Nihann volge al termine e tornando a casa Nihann telefona a suo fratello per condividere con lui tutta la gioia della serata. Al telefono però risponde Emir che le fa capire subito che qualcosa non va. Lei si innervosisce e dopo essersi fatta passare al telefono Ozan, è suo fratello stesso a dirle che è successo qualcosa di orribile. Lui ha ucciso una persona. È lo stesso Emir a dire a Nihann di raggiungere subito casa sua per dare conforto al fratello. Mentre Nihann corre verso casa di Emir, più spaventata che mai, Kemal è al settimo cielo e annuncia alla sua famiglia di aver trovato l'amore della sua vita e che le chiederà di sposarlo. Se a casa di Kemal tutti gioiscono a casa di Emir, Nihann si ritrova in una situazione paradossale che mai avrebbe immaginato di poter vivere. Suo fratello è distrutto e a quanto pare sono già stati informati tutti di quanto successo. A casa di Emir infatti ci sono sia il padre di lui che i genitori di lei. Galip la rassicura subito dicendole che lui e suo figlio Emir si occuperanno di tutto, ma Nihann sa già che ci sarà un prezzo da pagare. La mattina dopo, Kemal, al settimo cielo, va a scegliere insieme al suo amico l'anello di fidanzamento per Nihann. Il ragazzo, infatti, l'ha convocata al molo per farle la proposta. Lei arriva, visibilmente turbata e con il volto solcato dalle lacrime. Lui non sospetta minimamente il dramma che lei sta vivendo. Con tutto l'entusiasmo del mondo, lui le chiede di sposarlo e lei, sempre piangendo, risponde di no, che non può sposarlo. Una Nihann in lacrime spiega a Kemal che loro sono troppo diversi e anche se gli aveva promesso di partire con lui, ha capito che ci sono delle cose alle quali non potrà mai rinunciare, neanche per lui. Kemal rimane senza parole con il cuore in mille pezzi e non può fare altro che guardarla mentre va via e disperarsi per essersi illuso di poterla conquistare. Mentre Kemal torna al negozio di suo padre, trova la madre di Nihann che inveisce contro di lui. Vildan, infatti, è venuta ad informare la famiglia di Kemal del fatto che il ragazzo non dovrà mai più avvicinarsi a Nihann che adesso è promessa sposa di Mir. Kemal interviene giusto in tempo per mettere a tacere Vildan ma suo padre, Hussein, scosso per quanto accaduto, ha un mancamento e si accascia a terra. Passano quattro mesi e ritroviamo Kemal intento a lavorare alla miniera di Zonguldak. Sembra essere un ingegnere abbastanza rispettato dai colleghi e sottoposti. Uno dei pochi veramente interessato a gestire al meglio il lavoro nelle miniere. Proprio durante uno dei consueti giri di manutenzione c'è una grave fuoriuscita di gas che provoca una forte esplosione. La miniera di Zonguldak è una delle più prolifiche della Turchia per questo la notizia viene immediatamente attenzionata dalle televisioni nazionali. È proprio tramite un servizio in televisione che sia Hussein che Nihann vengono a sapere dell'incidente alla miniera. Entrambi rimangono sconvolti e il loro pensiero va subito all'amato Kemal che risulta ancora essere all'interno della miniera. Kemal riesce a salvarsi e a salvare anche diversi suoi colleghi. Riesce a contattare e a tranquillizzare subito la famiglia mentre Nihann è in forti agitazioni per le sorti di Kemal e Zeynep, la sorella minore del ragazzo, a chiamarla per rassicurarla. Kemal sta bene ed è salvo. Subito dopo, Nihann viene contattata da suo marito Emir che, senza troppa gentilezza, le ordina di prepararsi per una cena di lavoro alla quale sarà costretta ad accompagnarlo. Kemal, durante l'incidente, è riuscito a salvare la vita ad un suo superiore, nonché dirigente della miniera. L'uomo che già lo teneva in buona considerazione per la professionalità e la dedizione al lavoro, dovendosi anche sdebitare, propone a Kemal di diventare suo socio e di ereditare un giorno la gestione della miniera. Riconoscente ed emozionato, Kemal accetta e comincia a prepararsi ad affrontare questa nuova sfida. Passa un anno e Kemal ha guadagnato soldi e prestigio tutto grazie alla sua determinazione e professionalità. Il suo capo e mentore, il signor Aki, ha anche un nuovo compito per lui. Kemal dovrà andare ad Istanbul per partecipare ad una gara d'appalto e la conseguente negoziazione del contratto per un impianto energetico. Kemal legge i nomi dei partecipanti alla gara e si accorge della presenza di un nome che non avrebbe mai voluto sentire, Emir Kozkuglu, il marito di Nihan. Kemal non può fare altro che rifiutare l'incarico affidatogli dal signor Aki. Nihan è sposata, quindi, con Emir. La coppia vive in una casa in cui abitano anche i genitori e il fratello di lei. Ozan, dopo l'omicidio, avvenuto ormai cinque anni prima, soffre di una forte depressione e i rapporti tra Nihan e Emir sono più freddi che mai. Lui, che tanto ha lottato per sposare Nihan, non sembra più neanche essere interessato alla sua presenza. Non ha considerazione né per lei né tantomeno per la sua famiglia. Nihan non è per nulla felice e vive con rassegnazione il suo matrimonio e la sua vita. Kemal, da solo, ripensa all'incarico che il signor Aki avrebbe voluto affidargli. Cerca su internet informazioni su Emir e ripensa la sua storia con Nihan. Guarda poi un'intervista fatta ad Emir e, guardandolo atteggiarsi e vantarsi della sua ricchezza, decide di sfidarlo sul suo stesso campo da gioco. Accetterà l'incarico e andrà ad Istanbul. Siamo così alla fine delle anticipazioni di queste prime puntate di Endless Love. Vorrei sapere nei commenti cosa ne pensate. La trama in realtà è molto appassionante, quindi dovremo seguire questa serie per cercare di entrare in tutte queste dinamiche che ci porteranno davvero lontano con le emozioni. Io sono Stefania, come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Io sono Stefania, come sempre vi mando un abbraccio e vi mando un abbraccio.